Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati. La cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che abbiamo partendo dal Catanese con i carabinieri di Randazzo che hanno arrestato un 65enne per detenzione illegale di armi e munizioni. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 65enne del posto già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni. A riguardo i militari dell'arma, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei fenomeni criminali connessi ad armi e droga, all'esito di attività info-investigativa, hanno bloccato in contrada Castro Rao un uomo che si aggirava in aperta campagna, che all'atto del controllo non era in grado di fornire valide spiegazioni circa la sua presenza in quei luoghi. Dato l'atteggiamento sospetto, gli operanti hanno quindi immediatamente proceduto alla perquisizione personale del soggetto e del suo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Nella circostanza, all'interno del mezzo, i carabinieri hanno rinvenuto all'interno di un borsello un revolver calibro .32 sprovvisto di matricola, con tamburo armato e caricato con cinque proiettili del medesimo calibro, arma pronta per fare fuoco. L'attività di ricerca è stata quindi estesa all'abitazione dell'individuo, ubicata in contrada Sulì, nel comune di Francavilla di Sicilia, dove l'uomo, forse per evitare più gravi conseguenze giudiziarie, ha spontaneamente consegnato ai militari un fucile da caccia del tipo doppietta calibro .16, sprovvisto anch'esso di matricola e approntato per l'immediato utilizzo, che era nascosto in un fienile. Le armi e le munizioni, tutte illegalmente detenute, sono state sottoposte a sequestro. I carabinieri hanno posto l'uomo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Catania, invece, i carabinieri hanno effettuato degli approfonditi controlli in città per contrastare il fenomeno della guida senza casco. Vediamo il servizio. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha deciso di intensificare i controlli sulle vie e arterie a maggiore percorrenza, avviando di fatto una campagna di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alle condotte di guida indisciplinate e irresponsabili. In tale contesto, il nucleo radiomobile di Catania, attraverso i propri equipaggi sul campo, ha rafforzato i pattugliamenti volti a garantire il rispetto del codice della strada, operando un giro di vite verso il grave fenomeno della guida di moto e scooter senza casco. Nell'ultimo trimestre, le gazzelle e i motociclisti dell'arma hanno quindi multato oltre 85 centauri che non utilizzavano il casco, elevando altrettante sanzioni per un importo complessivo superiore ai 7.000 euro, decurtando più di 500 punti dalle patenti di guida. Assolutamente variegate le reazioni dei trasgressori, c'è chi ha mostrato l'assegnazione, comprendendo l'errore e le sue possibili tragiche conseguenze, chi ha provato a dialogare, accampando inverosimili scuse e chi si è adirato. Non sono fortunatamente mancati episodi dei quali è emersa la finalità educativa dell'attività contravvenzionale. In particolare, in un'occasione, in Piazza Europa, i militari della sezione motociclisti del nucleo radiomobile hanno fermato senza casco un sedicenne, oltretutto privo anche della patente. Nella circostanza, durante la redazione del verbale, è giunto sul posto il padre dell'adolescente, il quale, dopo averlo energicamente rimproverato per la condotta imprudente, ha ringraziato i carabinieri per averlo sanzionato, consentendogli, in questo modo, di meditare sulle proprie azioni. Purtroppo, il fenomeno della guida di motocicli e ciclomotori senza l'utilizzo del casco è ancora molto diffuso nel capoluogo etneo, causando vittime e feriti di ogni età. L'attività contravvenzionale condotta dai militari è quindi soprattutto volta a richiamare l'attenzione di adulti e giovanissimi sui gravi rischi che questi comportamenti incoscienti possono comportare alla loro incolumità. Far osservare queste norme del codice della strada, infatti, può essere determinante nel trasformare una possibile disgrazia in una vita salvata. Ed ora una notizia di cronaca dal Trapanese. Rubano un mezzo agricolo di proprietà del comune di Mazzara del Vallo per sradicare la cassa di una stazione di rifornimento di carburante incontrada a Triglia Scaletta a Petrosino. Come detto, siamo nel Trapanese. Il mezzo è stato ritrovato poi nelle campagne marsalesi dagli agenti della Polizia di Stato, i quali sono riusciti a risalire alla proprietà comunale tramite la targa del mezzo. Pare che il trattore, al momento del furto, fosse privo di batteria e che proprio i malviventi, prima di portarlo via, ve ne abbiano montata una, a quanto pare che era stata rubata poco prima, proprio a Petrosino. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato. Ed ora invece a Siracusa parliamo dell'arresto di una quarantenne, una donna stalker, che continuava a perseguitare l'ex fidanzato. Sono però intervenuti i carabinieri. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno arrestato una donna di 40 anni che non si era rassegnata alla fine della storia d'amore con il suo ex. Un raro caso di stalking, al contrario quello di cui sono stati i protagonisti, una donna del capoluogo è un uomo con cui la stessa ha intrattenuto una relazione sentimentale. Quando l'uomo ha deciso di porre fine alla relazione, la donna non si era assegnata e ha iniziato a perseguitarlo con i comportamenti tipici della stalker. Chiamate e messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte, la quarantenne si presentava senza preavviso sotto l'abitazione della vittima o sul luogo di lavoro per minacciarlo e in alcune circostanze aggredendolo fisicamente. L'autorità giudiziaria, dopo la prima denuncia, aveva emesso nei confronti della donna il divieto di avvicinamento alla parte offesa, che è stato ripetutamente violato, tanto che sono stati necessari diversi interventi dei carabinieri. Le violazioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria, che ha disposto un aggravamento della misura cautelare e pertanto i carabinieri hanno sottoposto la quarantenne agli arresti domiciliari. Ed ora a Palermo, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 29enne marocchino, il quale si è reso responsabile del reato di rapina impropria ai danni di un cittadino cinese. Il fatto è avvenuto all'interno di un negozio nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano. Il malvivente, dopo aver prelevato dalla merce e dagli scaffali, ha tentato di scappare senza pagare. Bloccato dal proprietario dell'esercizio commerciale, il 29enne lo ha aggredito brandendo un coltello. Gli agenti, intervenuti prontamente sul posto, hanno immobilizzato il soggetto, il quale però anche in loro presenza ha continuato a minacciare il cittadino cinese. Pertanto, come detto, il 29enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria. A Bagheria, invece, siamo sempre nella Palermitano, i carabinieri hanno effettuato un sequestro beni per circa 800 mila euro nei confronti di un esponente di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria. Vediamo il servizio. Le attività di indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, hanno portato all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le richieste della locale procura della Repubblica di un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 800 mila euro a carico del bagherese Nicolo Testa. Testa era stato tratto in arresto nel 2015 nell'operazione Panterei con l'accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria, in particolare per essere stato un punto di riferimento per l'imposizione delle estorsioni nell'area di influenza, riportando una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Recentemente, a giugno di quest'anno, Testa è tornato in libertà. Ancora prima l'uomo era emerso quale soggetto interessato personalmente nella complessa gestione nel comprensorio bagherese della latitanza di Bernardo Provenzano, oltre a essere persona di fiducia del noto esponente mafioso Giuseppe Di Fiore. Il provvedimento di sequestro ha riguardato i beni tutti intestati nel comune di Bagheria del valore complessivo di circa 800 mila euro. Si tratta di un'impresa individuale operante nel settore edile con relativo complesso dei beni aziendali, costituito in particolare da ulteriori due imprese operanti nel medesimo settore e numerosi mezzi di trasporto ed industriali. Tra i appezzamenti di terreno, il 50% di un appezzamento di terreno è una corte di 190 metri quadri. Altro sequestro beni, stavolta da oltre 850 mila euro, eseguito invece dai finanzieri di Ragusa nei confronti di due imprenditori. Tutti i dettagli nel servizio. Beni per oltre 853 mila euro sono stati sequestrati a due imprenditori dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP su richiesta della locale procura al centro delle indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria la dichiarazione di fallimento di una società del settore di commercio, di accessori e capi di abbigliamento. Secondo l'accusa dagli accertamenti sarebbe emerso l'occultamento e la distrazione di beni della società fallita grazie a una serie di operazioni fittizie finalizzate al depauperamento del patrimonio aziendale e il successivo reimpiego delle risorse in una nuova società costituita ad hoc nella fase pre-fallimentare dei due imprenditori. Il provvedimento del GIP ha riguardato il blocco preventivo dei conti correnti in uso agli indagati, il sequestro di beni immobili, quote, societarie e veicoli tra cui un'autovettura di lusso. I controlli effettuati invece a Catania da parte delle Forze dell'Ordine nel corso del weekend appena trascorso hanno portato a diverse sanzioni. Continuano i servizi organizzati dalla questura di Catania nel centro storico cittadino per garantire la tranquillità dei residenti e il sereno svolgimento delle attività commerciali nelle serate del fine settimana. Il questore ha ribadito anche questa settimana la predisposizione dei servizi di vigilanza e controllo nelle vie del centro storico ad assetto interforze pianificando mirati servizi a integrazione degli ordinari dispositivi di controllo del territorio allo scopo di prevenire e contrastare non soltanto eventuali manifestazioni di criminalità diffusa ma anche condotte improntate all'illegalità e tutti quei fenomeni che costituiscono manifestazioni di degrado incidendo sulla percezione di sicurezza. Il dispositivo Interforze, come nelle precedenti settimane, è stato dislocato su tre distinte aree di intervento su cui sono stati eseguiti servizi di pattugliamento attivo nelle aree di via Gemellaro, via Santa Filomena, piazza Bellini e nell'area di via San Giuliano e via Limitrufe hanno operato equipaggi della Questura e della Polizia Locale coadiuvati da personale della Polizia Scientifica sulle vie Gemellaro e Santa Filomena hanno invece operato equipaggi della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Nell'area di piazza Federico di Svevia il servizio è stato assicurato da equipaggi dei reparti territoriali dell'arma dei carabinieri coadiuvati da personale specializzato del NAS e della Polizia Locale Nel corso dei servizi eseguiti complessivamente sono state controllate 93 persone, 41 veicoli e 5 esercizi commerciali all'interno delle cucine di uno di questi nei pressi di piazza Bellini sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità e pertanto il titolare è stato denunciato in stato di libertà Nell'area di piazza Federico di Svevia complessivamente sono state controllate 48 persone e 25 veicoli ed accertate 14 violazioni del codice della strada per le quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro ed un motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo in particolare 4 di queste sanzioni sono state erogate nei confronti dei conducenti di altrettanti veicoli poiché parcheggiati in modo da ostruire l'accesso a piazza Federico II di Svevia Nel corso dei servizi i militari operanti hanno inoltre denunciato e stato di libertà per interruzione di pubblico servizio una turista che aveva lasciato l'auto a noleggio nel centro della via Etnea ostruendo lo scivolo per disabili nonché impedendo il passaggio dell'autobus di linea È tutto, ci fermiamo qui chiudiamo questa edizione di Spazio e Notizia ma ovviamente l'informazione prosegue su Sicilia 24 a più tardi Grazie a tutti Grazie a tutti